ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi voglio farvi vedere un piccolo toy hunting che ho fatto al centro commerciale e c'erano degli sconti e prima di cominciare mi scuso per la luce è il meglio che posso fare e sono in bijama e niente adesso vi faccio vedere un po di cose prima di cominciare dicevo ho ritrovato un po di vestiti delle mie vecchie bambole e le ho messi sulla mia ariel del disney store è super snodabile questa Barbie me l'aveva regalata il mio ragazzo a san valentino non ricordo se ci ho fatto qualcosa si era tra i preferiti del mese e le stanno benissimo i vestiti delle Barbie e anche le scarpe le stanno benissimo e è molto carina mi piace questo vestito di credo generentola era ma parlo di un vestito di veramente tanti anni fa allora ecco mi piace tantissimo perché ha queste spalline in tulle e la rosalina in mezzo e ha questo vestito carinissimo è bellissimo poi di recente ho comprato e sarà tra i preferiti del mese di maggio no aprile scusatemi io sto fuori di testa sarà questa sarà la preferita del mese di di aprile e ed è rapunzel della quella lì che ho regenzito appunto e mi ci sono trovata veramente bene la torre contambola e questo è il vestito della vecchia rapunzel questo era di barbie rapunzel che mi regalarono quando avevo 8 anni forse anche meno e guardate quanto è bello è ancora ben conservato è veramente stupendo è fatto veramente bene con questi decori io ero terrorizzata dal fatto di perdere questi vestiti perché non li trovo più erano in una scatola prima poi non ho trovato più la scatola perché la mamma li aveva messi in un in un in uno zaino poi dopo me ne ha trovati quindi ok passate la paura ecco qui le ho fatte questa acconciatura come era nel film più o meno per giustificare il fatto che i capelli fossero comunque un po più cortini però ecco adesso sembra più ecco mancano un paio di fiori in testa e stiamo a cavallo bene cominciamo con il video vero e proprio ho 4 minuti e 42 fantastico e c'erano gli sconti ho preso questo coniglietto peluche della baby qualcosa leo cadditoi leo peluche è uno di quei peluche carinissimi che io adoro coniglietto 6 euro l'ho pagato a un orecchio con un pattern a stelline e stelline bianche sfondo rosa e un altro può no a cuori scusatemi a cuori rosa sfondo bianco e a queste queste orecchie che si spiegelano non so come vengano definite ma scritte la nostra è appunto questa carta fa che ti rende quasi un po antistress è carinissimo lo adoro scusami tetti lo adoro tantissimo era veramente carino era l'ultimo l'ultimo rosa che era rimasto l'ho voluto comprare altrimenti c'erano un marroncino un po tipo lui e blu azzurro poi ho preso con un mega sconto a 3 euro questo anazuki questo anazuki coniglietto e full of emka praticamente allora vediamo se riesco a vedere questo è anche applicabile sull'app con lo scan perché ha sul culetto sempre lo stesso simboletto che ci sono sui braccialetti ha una taschina molto probabilmente per mettere gli altri braccialetti anazuki eccolo qui il mio braccialetto anazuki che dovrei ricaricare viola dovrebbe essere l'elemento della determinazione e io ho appunto tutto il set e i set quelli che potete trovare 8 dovrebbero essere gialli rossi e viola appunto e questo l'ho pagato 8 euro il set ma il set che ho preso adesso l'ho pagato solo 3 euro ed è il set giallo in questo set giallo se la luce me lo permette troviamo il coniglietto un cagnolino poi un hamburger felice se riesco e una betta una betta felice che è un cosino altrettato felice un dente credo è carissimo adesso provo ad aprirlo ecco la pettina guardate quanto è carina poi c'è questo che è un cuore un cuore i piedi non è rondente però è un cuore anche di molto carino questo è il mio preferito in assoluto è un cane dentro una specie di seggiorino sembra un cane dentro una specie di seggiorino è un cagnolino molto felice bellissimo poi c'è il coniglietto eforico questo è il giallo della felicità come come i morti questo sembra una mela sembra una mela perché ha questo ciuffetto qui che mi ricorda una mela credo poi guardate questo ciuffo che caccia che deve fare allora poi c'è questo hamburger e ora scopriamo le bustine e ne ho presi cinque e su ogni bustina c'è ci sono due tesori speriamo che mi basti la carica ci sbrighiamo cominciamo bene perché non trovo dove si apre vediamo cosa abbiamo ottenuto perché qui ci sono quelli che non troviamo di solito abbiamo trovato una piramide iper felice che non ho e un razzo un po' preoccupato di quello che sta per succedere vai cos'è? un coso spaventatissimo un cosino verde spaventatissimo un cubetto di gelatina verde spaventato e che carina una nuvoletta azzurra felice vedo un po' tutte le emozioni così ho questo lecca 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 felice che non ce l'ho però ho lecca lecca felice non ce l'ho una cosa poi c'è una piramide è una piramide arrabbiata e non ce l'ho quella del sentimento di rabbia ma vorrei quelli rosa vorrei ho altre tre bustine comunque da aprire vorrei questi rosa qua oppure anche quelli arcovale non è che ci sputerai sopra sinceramente ho ho preso i popcorn felici e ho preso un tostapane determinato ah questo è un tostapane spaventato oh questa è una coppetta da panna triste una coppettina di panna triste e non ce l'ho? no non credo è una piramide felice dopo farò la cerchissima manca una ma ne ho anche sottapagamento neanche se lo pagavo ecco qui c'è un lollipop spaventato e qui c'è un cuore che fa l'occhielino e niente che peccato non ho trovato niente 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 di rosa ne ho presi 5 ne prendo 10 non lo saluterà mai e vabbè queste sono tutte le emozioni che sono tantissime tutte le emozioni che formano appunto i colori dell'arcovoleno e noi abbiamo trovato finora un po' di tutto tristezza serenità l'ho trovato tristezza serenità determinazione l'amore non l'abbiamo trovato un po' di pazzia forse l'abbiamo trovata no questo è quello felice paura relax c'è tipo appunto dico rossorabbia arancione euforia giallo felicità verdogna la paura verde un po' verde più acceso serenità multicolor multicolor qualcosa in generale l'amore rosa determinazione viola tristezza blu verde acqua verde acqua tutto ok credo l'amore va bene comunque ecco questi sono tutti i miei pupazzetti che sono riuscita ad raccogliere oggi spero di trovarne altri magari riprenderò su amazon ma non lo so ma un euro ogni pacchetto mi è sembrato veramente poco quindi ne ho voluto prendere un bel po' anche se sono stata sfigata che non ho trovato quelli rosa che volevo si trovi valori cangeric comunque non lendo non l'amp è andato male vabbè può andare male nella vita e spero che questo video vi sia piaciuto se vi va ad iscrivervi al canale iscrivetevi e mettete la campanella per avere le notifiche sui video ad aggiornamento sui video che posterò o comunque e niente, spero che questo video vi sia piaciuto mettete anche un pollice in su se vi va e se vi va noi ci vediamo alla prossima volta ciao ciao